Il Museo Puget conserva le collezioni dei pittori Narciss Puget Vignas e di suo figlio Narciss Puget Ricoeur. Circa 130 opere, tra le quali spiccano gli acquerelli e i disegni di Narciss Puget Ricoeur e Iole i disegni di suo padre. L'esposizione si trova in Cancoma, un edificio del XV secolo in sile gotico. La struttura si compone di tre piani. Al piano terra troviamo esposizioni temporanee di diversi autori. Al piano superiore, a cui si accede tramite scale esterne, ci sono diverse sale affrescate con colori pastello, dove sono le opere di entrambi i pittori. Lo scantinato dell'edificio, invece, è destinato a solo uso interno del museo. Attraverso la visita a questa galleria è possibile giungere alla consapevolezza che alcune tradizioni bizenche continuano intatte rispetto del tempo.